Visita questa mattina Palazzo di Città Pescara dell'ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria della Repubblica di Armenia per un incontro con il sindaco Masci e i rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico e imprenditoriale abruzzese. L'occasione è anche servita per la celebrazione del trentennale delle relazioni diplomatiche tra Armenia ed Italia. Non è mancato ovviamente un accenno da parte dell'ambasciatrice a quello che sta accadendo in questi giorni in Ucraina. Quest'anno celebriamo il trentesimo anniversario dell'instaurazione dei rapporti diplomatici tra l'Italia e l'Armenia che è un anniversario molto importante per noi. Sia la Russia che l'Ucraina che il popolo russo e il popolo ucraino sono entrambi per noi popoli amici e noi ci auguriamo che quanto prima si possa stabilire la pace nella regione. Si terrà il quarto round, speriamo che sia l'ultimo round dei negoziati, speriamo che si possa arrivare a un accordo e che si possa firmare un documento che metta fine alla guerra. A fare gli onori di casa il primo cittadino di Pescara, Carlo Masci. Per noi è un piacere e un onore averla qui anche perché si tratta di una popolazione che ha avuto purtroppo sofferenze grandi e oggi un momento culturale può rappresentare una situazione di tranquillità e di serenità in una situazione difficilissima quale quella che stiamo attraversando nel mondo. Grazie a tutti.